Il libro di Baruch e la lettera di Geremia Baruch era il discepolo amanuense di Geremia. Il libro di Baruch contiene un'umile confessione dei peccati da parte dei giudei Esul in Babilonia, nonché ammonimenti e conforti al popolo. La lettera di Geremia, invece, è uno scritto distinto che intende mostrare la falsità del culto idolatrico, evitando così che il popolo esule cada in questo inganno. Iniziamo da il libro di Baruch. Baruch dichiara di averlo scritto a Babilonia ai sette del mese del quinto anno. Il libro fu letto presso il fiume Sodi alla presenza di Ieconia, figlio del re di Giuda Joachim, e di tutto il popolo intervenuto, nonché dei nobili della stirpe reale e dei sacerdoti. Tutti ascoltavano e piangevano, facendo orazione. Gli uditori decisero allora di fare una colletta di denaro e inviarla a Gerusalemme al suo sacerdote Joachim, figlio di Elcia, agli altri sacerdoti e a tutta la popolazione rimasta nella città santa. In quello stesso periodo, Baruch aveva ottenuto che i vasi del Tempio del Signore sottratti dai caldei fossero restituiti alla terra di Giuda nel decimo giorno di Sivan. Il denaro inviato sarebbe servito per sacrifici, incenso e oblazioni a Dio. Assieme ai vasi e alla colletta fu inviato uno scritto, a monumenti, da leggersi in occasione di una solennità e di un'occasione ritenuta opportuna. Eccone alcuni passaggi. 3.12.14 Quindi la fede in Dio, ci sta dicendo Baruch, dà longevità ai popoli. E ancora 3.26.31 Vi furono i giganti, quegli esseri famosi, che esistettero da principio, di alta statura cresciuti nell'arte della guerra. Non elesse costoro il Signore. Essi non trovarono la via della sapienza. Perirono a causa della loro insipienza. Chi salì in cielo e se ne impossessò, e la trasse giù dalle nuvole? Chi varcò i mari e le scoperse, e la importò a prezzo d'oro e d'argento? Non c'è chi possa sapere le vie per giungere ad essa, si sta parlando della sapienza, né indovinare la sua strada. Quindi si parla della sapienza e dei giganti. Ecco che parlando dei giganti, il profeta qui vuole mostrarci come, diciamo, la prestanza fisica non dia in sé diritto alcuno alla virtù e alla grazia del Signore. E quindi non porti la prestanza fisica, la forza fisica, alla fede in Dio. Al contrario, è proprio la fede in Dio che invece dà la forza ai popoli. È la fedeltà a Dio che fa durare i popoli, che allunga la vita dei popoli. E ancora 3, 34-36 C'è un ode a Dio onnipotente e creatore. Le stelle compaiono ai loro posti e brillano liete, rispondono all'appello e dicono presenti, e risplendono festeggiando chi le ha fatte. Questi è il Dio nostro e nessun altro gli può stare a paragone. Ricorda un po' il Salmo 19, 19-2 I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. E ancora 4, 1-2 Questo è il libro dei comandamenti di Dio e la legge che sussiste in eterno. Tutti quelli che ad essa si attengono giungono alla vita e quelli che la abbandonano vanno alla morte. Ritorna, o Giacobbe, e riafferrala. Avanzati sotto il suo splendore, dietro il suo lume. E infine 4, 30-35 Fatti animo, Gerusalemme, chi ti ha dato il suo nome ti esorta. Periranno quei disgraziati che ti maltrattarono e quei che si rallegrarono della tua ruina saranno puniti. Le città dove furono servi i tuoi nati saranno castigate insieme a quella che ritenne i figli tuoi. Come ha goduto della tua ruina e si è rallegrata della tua caduta, così piangerà nella sua propria desolazione. Sarà troncata l'esultanza della sua moltitudine e il suo tripudio si convertirà in lutto. Un fuoco le sopravverrà dall'eterno per lunghi giorni e sarà abitata ad essere diabolici per un tempo molto lungo. Dal libro di Baruch passiamo alla lettera di Geremia. Anche qua un commento assai breve. È una lettera che Geremia, su comando di Dio, indirizzò a coloro che sarebbero stati condotti schiavi in Babilonia. Nei passaggi principali viene denigrato il culto degli idoli, culto folle, falso e sgraditissimo a Dio. Ci concentriamo soprattutto su queste parti, che sono poi l'essenza della lettera di Geremia. 6.1.2 A cagione dei peccati che avete commesso contro il Signore, sarete condotti schiavi in Babilonia, da Nabucodonosor, re dei babilonesi. Entrati dunque che sarete in Babilonia, vi resterete per molti anni. Ecco quindi annunciata la punizione del popolo che ha abbandonato il Signore e le vie del Signore. 6.3.6. Ora voi vedrete, in Babilonia, dei di oro e di argento e di pietra e di legno, portati a spalle, che incutono timore ai gentili. State attenti perciò a non farvi anche voi imitatori degli atti degli stranieri, e di non averne paura, e che alcun timore non vi prenda di essi. Quando dunque vedrete affollate davanti e di dietro le turbe adoratrici, direte dentro voi stessi, tu devi essere adorato, Signore. L'angelo mio è con voi, e io stesso farò la disamina delle vostre anime. 6.7.15. Per quanto la lingua loro sia stata levigata da un artiere e siano indorati e inargentati, sono falsi e non possono parlare. Corone veramente d'oro hanno sul capo i loro idoli, onde avviene che i sacerdoti ne sottraggono gli ori e gli argenti e se ne servono per i loro usi, e li danno in prestito alle prostitute, e ne abbigliano le meretrici, e quando li ripigliano dalle meretrici, adornano di nuovo i loro dei. Ed essi non si possono preservare dalla ruggine e dalle tignuole. Benché siano così sfarzosamente vestiti di porpora, hanno bisogno di essere puliti la faccia dalla polvere del luogo, che presso di loro è molto abbondante. Un idolo in forma di uomo impugna lo scettro a guisa del giudice della contrada, ma non potrebbe mettere a morte chi gli facesse ingiuria. Un altro stringe in mano una spada o una scure, ma non potrebbe difendersi né in guerra né dai ladri. Da tutto questo si danno a conoscere a voi che non sono dei. Dunque, non vogliate temerli. Quindi si ridicolizza qui il culto di dei fatti da mano d'uomo e che quindi dei non sono. Bisogna adorare soltanto Dio, il vero Dio. 6, 17, 18 I sacerdoti assicurano con catenacci e serrami le porte affinché questi dei non siano spogliati dai ladri. Giustamente se fossero davvero dei sarebbero in grado di difendersi dai ladri, ma non lo sono. Accendono loro delle lampade in gran numero, delle quali non ne possono vedere alcuna. Sono come le travi di casa. 6, 23, 25 Anche la laminatura d'oro non è che per abbellimento. Se uno non li forbisce dalla ruggine, non risplendono. Mentre li fondevano, non li sentivano. Furono comperati ad altro prezzo. Eppure in essi non c'è spirito di vita. Non potendo muovere piede, sono portati a spalla, a dimostrazione della loro ignobile impotenza dinanzi agli uomini. Siano confusi anche quelli che li venerano. 6, 33, 37 Se gli idoli ricevono da qualcuno un maltrattamento o un beneficio, non glielo possono rendere. Non hanno potestà di costituire né destituire alcun re. Così pure non possono dare le ricchezze né ripagare un male. Se uno ha fatto un qualche voto e poi non lo adempie, essi non domandano conto. Non possono salvare alcuno dalla morte, né strappare dalle mani di un prepotente un debole. A uno cieco non potrebbero restituire la vista, né cavare un povero uomo dalle necessità. Non sentiranno pietà per le vedove e non potranno beneficare gli orfanelli. E infine, 6, 50 È chiaro che non sono dei, ma opere delle mani degli uomini, e non hanno niente di divino in loro. Quindi guardiamoci bene anche noi dal culto moderno dell'idolatria di entità, organi enti che non sono Dio.